lo sapete che quando andate la mattina a prendere un caffè a un bar me ciao 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 ti butterai via con questa del genio te lo dico se postura cose inoltre abbiamo anche la rubri mutui e tanto altro ancora e io cosimo no ma rifatto perché mi sono messo le cose il podcast google post è troppo difficile o ancora ti interessano puntate con ospiti è perché vedo poco mi dispiace un poco un ciccino perché vedo parecchio esatto benissimo perché vedevo la stanghetta via via